Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Legend of Zelda Wind Waker Il mio nome è come sempre qui Tone 8 e quest'oggi siamo ancora nel fantabosco cattivissimo oltretutto Siamo ancora in questo... Uh cosa c'era? Uh soldi, voglio i soldi! Fatemi arrivare i soldi, fatemi arrivare i soldi Soldi, 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 ho tanti soldi perché che a tanti soldi si becca un ramo nel Q Ok, bene comunque siamo nel dungeon della foresta, quello d'erba classico di Legend of Zelda Oltretutto che è molto simile, riprende anche i personaggi del vecchio Zelda Ocarina of Time Quindi tanta roba, veramente tanta roba Ora saliamo su di qua Ah Oltretutto io posso lanciare da lì un fiore bomba per aprire qua Perché si da qua posso tipo salire Però non mi fa aprire, ovviamente come giusto che sia Però tipo la forata di vento non serve un cazzo Quindi si, devo cercare di... Oh wait Posso fare una cosa tipo così per riuscire a bypassare il tutto, vero? Tipo... Salve, salve, salve Oop, ok Che ne dite? Secondo voi? Io? Da bravo... No, questo non serve un cazzo Vai Oh yes, ce l'ho fatta Bene Aia Comunque, sì, siamo qua per salvare Un'atizia Un... un... un ex cochiri Cazzo, sto prendendo un cifro di danni Wait Dei cuori Grazie Un ex... un ex cochiri che si è persa Nel bosco proibito Dove si trovano oltretutto anche le case Dei... dei tizi che prima erano i cochiri Almeno così, dicono loro Cioè che si possono vedere Delle casupole Che facevano parte Del... Che facevano parte, però appunto Delle loro case Prima che loro... siccome loro erano umanoidi E poi si sono trasformati In queste specie di sacchetti Pieni di roba Ah, hai ottenuto una piccola chiave Ora puoi aprire una piccola porta chiusa Nascosta in questo piccolo luogo Ok Quindi io suppongo che sei tipo Vola qui, salta qui Fai così Magia Ok Io suppongo che devo andare di là Perché lì Ci sono solo vasi Lì c'è un altro vaso Merda GG Link Quindi qua era solo per... Ah sì, perché tanto dobbiamo tornare indietro Perché c'è la porta chiusa chiave Verissimo Wow Mi ero già visto tipo un tentacle Rape Ecco Tipo Link che cade questo... Questo coso bitorsoluto Che esce dal terreno E lo impala Lo so È un'immagine orribile Vi ho rovinato l'infanzia Mi dispiace Minchia sti robi Venite qua Oh Arrivederci È stato bellissimo Ciao Non ho tempo Con queste Quisquiglie Pizzillacchere Quindi Una piccola chiave Che aprirà questa porta qua Yes Perfetto Poi Vieni qua Bastardo Ma posso ucciderti? No Minchia se ci arrivo No Non ci sono arrivato Porco cazzo Perché quest'acqua è rossa? Chi è che ha avuto le sue cose? Ok Perfetto Poi Da qua Dove devo colpire? Sempre lì? E in chi è più di così zio? Nice Ce l'abbiamo fatta Ok Oddio Che cazzo è quella roba lì? Che cazzo è? Perché scorreggia addosso roba strana? Ok Tu? Tu sei cattivo? Tu sei malvagio Non c'era L'aria del malvagio Fin dall'inizio Cattir suono Come un tamburo Che schifo Quell'insettaccio Comunque E questi? Questi tipo Si possono far cadere No Ok Quindi saliamo qua Oh merda Wow Salve Come andiamo? E uno E uno in meno Della quale preoccuparsi Il che ci va benissimo Lì c'è il coso dove Dove spararsi Quindi si suppongo No non di qua Suppongo di andare di qua E poi Sono un imbecile Ok Quindi Hop 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 Ora Dove vogliamo andare? Vogliamo andare di qua Yeah Perfetto Venite qua E one E two Aia E three E Oh cazzo E four Cioè in realtà Se ne hanno solo tre Però va bene così Ho perso il conto Questo li posso aprire? Si Nice 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 Ma se tipo Voglio saltare Merda No niente Va bene Quindi qua c'è una porta Lì c'è una porta Iperchiusa E E Sì Direi di entrare Nella porta aperta Allora di qua Oddio Mi hanno chiuso dentro E cosa ci starà mai qua? Polvere di fata Oh merda Che cazzo è? Merda 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 Prendi qua Oh cazzo Cazzo Inizia a farmi male Che palle però Venga Venga qua Cozzo Muori Muori Oh sì L'ho fatto perdere Basta Cercare Di spararmi Merda Addosso Oh Che cazzo Orribile 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 Uh Questo lo distruggiamo Intanto E prendiamo Tutta la roba Che c'hai Ok E poi Apriamo qua Hai ottenuto il boomerang Ci dirà schermo degli strumenti A segnalo a uno dei pulsanti L'icona Che se studiisce il punto rossa Indica che è precisa Zona in cui puoi colpire il bersaglio Non so neanche se l'italiano Puoi prendere Mi raffino Un massimo di 5 bersagli Con un lancio solo Che figata Non me la ricordavo Questa cosa Quindi Suppongo che questo Lo mettiamo tipo qui Yes We like it here Yes We like it Va bene Quindi per uscire Devo fare tipo Versaglio 1 Versaglio 2 Vai boomerang Nice Ho boomerang a ricerca Praticamente Il che risulta Fighissimo E va bene così Let's go Ok Oh merda Oh Rende molto più facili Da gestire Cazzo Sono un imbecille Arrivederci Solo io Cazzo Solo io Solo io Potevo cadere Atterrare direttamente Dentro il coso Che ti spara fuori E andarmene Yes Due cosi andati Perfetto E noi ce ne andiamo Yup Oh merda Vai boomerang Tagliamo anche questi Giusto per concorrenza Vai boomerang Va il boomerang Come se la vola Ok Poi Ah Ho capito che senza siamo Siamo nella parte sopra Ehi Fantastico Porta felicità Etc Etc Farfalle 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 Perché non mi fa saltare Questi Queste cose Ripetitive Ok Andiamo Hello Oddio So già cosa devo fare Vero Oh si che lo so No Non questo Evidentemente Non lo sapevo Vai Cinque cose Tutte assieme E la casa Cade giù Il fiore Non c'è più E boomerang Suppongo Che questo sia venuto Che sia venuto il momento Di tipo dire Oh Fuck Nice Cadute controllate For the win Hmm Hmm Cosa farà mai questo Oh porco Giuda Scherzavo 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 Aia Ho capito Per salire Però Figa E visto Delle spiegazioni Un po' prima Sarebbero state utili Poi cosa farà mai Questo Vortice Della madonna Ok Opple te Oh beh Muori Crepa in acqua Troia Porco Giuda Che sfiga Sono in acqua Non vale Mollalo Link Sali Ok Vieni qua E mo E mo Eh 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 Io cado qua Li faccio secchi tutti Perfetto Ah però li posso Li posso tipo Spustare Se io voglio andare tipo di là Per tipo Porco Giuda Quanto siete rompi Balle Sì Diciamo che L'unico Metodo reale È questo Per farli secchi Nope Vai Tutti su Tutti a bordo Il link 108 train Grazie Ok Oh merda Oh Sto sbagliando Tasto Ero come Ma perché Non funziona Li sto colpendo Nope Ok Poi Prendiamo questo E facciamo È stato un piacere Arrivederci Ok Qua cosa c'è Uh Hmm Hmm Si lo so che li devo tagliare Però se tipo io volessi andare lì prima Arrivederci Yes Una rupia gialla Questa gemma vale 10 rupie Io non posso prendere solo 4 Fantastico Che bello Come sono contento Oh addio So già cosa devo fare qua È una barca Yes È una fottutissima barca Qui solliviamo questo Poi facciamo questo Poi facciamo questo E poi siamo degli imbecilli Quindi torniamo qua sopra Saltiamo qua Oh Allora Eh Su Spara Dai Palla Che stronzo Va bene Facciamo l'acqua sotto Che siamo più bassi Vieni Oh ok Fantastico Così E poi Eh Perfetto E un'altra porta Che ci rivolta all'inizio della porta portata No 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 Non è l'inizio ma è la fine No Non credo Porco Giuda Misericordioso E io Ma dove vado Come faccio a ritornare il suo adesso Ah lì Perfetto Sì dai Stai nuotando eh Non è che stai Ok Prendi questo Troia Ah 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 Però ti può beccarlo da qui Uh yes Riponi Strescia Ho detto Strescia Nice Sì 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 Ciao caro Devo riuscire A farlo Aprire Non posso Non ti guardo No niente Cazzo Come faccio A farlo aprire Mmm Quindi Riponi Strescia Grazie Allora Va bene Capiamoci Venga qui Signore Grazie Cazzo Che palle Allora Di qua No Di qua dove sono andato E va bene Basta di seguirmi Vengo io da voi Non vi preoccupate Tutti su Ah grazie Molto gentile Non ci arrivavo Fiore Bomba Eh forse dall'alto Devo farlo Allora Yes Cuore Agirò tu Cazzo Anche tu Cuore Quindi Ok Eccoci qua Ok ho capito cosa devo fare Bene Bene Ho capito cosa devo fare È solo che trovo delle difficoltà nel farlo Perché Perché io miro da una parte e tu spari dall'altra Brutto stronzo Ok Quindi Non ci arriva Quindi devo fare così Rotto Rotto Ok Basta Eh di qua Basta Ah ok ho capito Quindi Potrebbe essere alquanto difficile Ma ci proviamo Oh Bitch Please I'm so good I'm so good It's not even funny Ok Uno è andato Vogliamo farlo suo discorso? Grazie Via Dentro di qua Fuori di qua Mortacci De pippo Così Tutto questo per una mappa del tesoro? Che palle! Really? Tutto questo per una cazzo di mappa del tesoro? Ciao Quindi qua siamo andati Perfetto Oh bene Qualcuno mi ridà la mia E se io volessi la mia Eccolo Grazie La mia barca Merci Molto gentile Spara dai Lo so che vuoi sparare Spara troia Perfetto Non dovrei mai guidare niente in vita mia evidentemente io eh Allora Salve ragazzi Come andiamo? Merda Oh yeah Bitch please Vabbè non ci siamo mossi di molto eh Ok Oh E che cazzo Perché è un tentacle Raipunico Sto posto? Merda Salve Salve Oh mio dio Cosa mai dovrò fare io? E indoviniamo Io direi che come prima cosa salgo qua Poi faccio Oh Uno Due Tre Quattro Cinque E vai E vai Oh bitch Please Sono Un esperto tiratore col boomerang a ricerca Che è molto facile oltretutto Una volta in Zelda dovevi fare il tiro perfetto Era fighissimo Hai ottenuto la grande chiave Ora puoi entrare nella sala dove risiede il signore del labirinto Accedi allo schermo della mappa e controlla con Oh merda Ah perché ci sono dei cattivi qua Doppio Bitches Non so come mi sono fatto male anch'io ma va bene così E lui è andato Ok Ora Minchia True Too easy Too easy Easy peasy Lemon squeezy Ok Uh un altro Rosso Cos'è che ci dà il rosso Non lo so Va bene Però quelli Non posso ancora passare Perché ci sono i tentacolli lì Quindi Suppongo di dover andare Tipo da qualche parte di qua Perché si è aperta No Ah quella Quindi Grazie Eccolo Stavo dicendo Non mi fa appendere Eppure sembra proprio una cosa per appendersi Eccomi qua Si va avanti Sempre più a fondo Nel labirinto Nope Bene ragazzi Direi che qua è un buon posto dove fermare Sì Scusi eh Grazie Sto cercando di fare l'altro Molto Porca merda Vabbè Questo è un altro modo per farlo Comunque ragazzi Direi che qua è un ottimo posto per fermarsi Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito Mi ricordo che come sempre il mio nome è Quit One Wait Nel prossimo andremo dal cattivo Abbiamo più o meno tutto quello che ci serve Abbiamo esplorato questo Abbiamo esplorato questo Ci manca solo il passaggio a destra al primo piano E poi abbiamo esplorato tutto Quindi faremo il boss Faremo il Faremo tutta la sezione dopo Dove ci daranno la perla Etcetera Nel prossimo episodio Il mio nome è come sempre Quit One Wait Ciao a tutti Adesso sono il re del let's play One Wait